La prima puntata di Vieni via con me, programma ideato e condotto da Fabio Fazio e Roberto Saviano, che ieri sera ha ospitato Roberto Benigni e Claudio Abbado, è stata seguita con grandi interessi da più di 7 milioni e 500 mila telespettatori, con oltre il 26% di share. La dirigenza di Rai3 si attendeva certamente un buon risultato, ma si è andata al di là delle aspettative, con picchi superiori ai 9 milioni di telespettatori al 32% di share. Sicuramente ha contribuito al successo della trasmissione il monologo recitato da Roberto Benigni, durante il quale l'attore toscano ha cantato l'elenco delle proprietà di Silvio Berlusconi.